La marcia che organizzeremo è stata proposta da delle associazioni quali Lega Ambiente, Fiavamo la Bici, Velo Lento e con il supporto anche di Energetica dei Cine Maniaci. Noi nella nostra scuola abbiamo iniziato a interessarci a questa iniziativa sotto consiglio del nostro professore Alessandro Sozzi che ci insegna italiano e ci siamo interessati abbiamo voluto coinvolgere anche tutta la scuola quindi abbiamo diffuso la notizia a tutte le altre classi e abbiamo ricevuto molte adesioni, molte persone erano interessate e questo ci ha fatto molto piacere perché essendo questi Fridays for Future ispirati comunque all'idea di una giovane abbiamo trovato molto piacevole intraprendere anche in questo percorso, interessarci comunque ai problemi dell'ambiente e ci siamo ispirati al discorso che ha fatto Greta Thunberg che è molto conosciuto anche adesso quindi l'abbiamo diffuso in tutta la scuola, tutti si sono informati e vogliamo appunto seguire le orme di questa ragazza in quanto troviamo che sia un problema molto attuale, ci sono stati molti sforamenti ultimamente e quindi è una cosa seria che nessuno deve sottovalutare e noi giovani dobbiamo essere i primi secondo me a migliorare la situazione anche con queste piccole cose Il 15 marzo scendiamo in piazza e combattiamo con tutte le nostre forze per portare avanti la conoscenza e la difesa del nostro pianeta perché ormai il problema del riscaldamento globale è un problema che non si può più sottovalutare, che non può più essere procrastinato e le conseguenze ci stanno facendo sentire pesantemente in tutto il mondo e riguardano la vita di tutti noi e il futuro dei nostri figli